Sei ancora indeciso? Vieni in negozio, siamo a tua disposizione! Ti aspettiamo presso il tuo Fastweb Store? In Corso Mazzini 58, Cava dei Tirreni Piromani in azione sui monti di Cava dei Tirreni Sabato scorso, poco dopo le 13, è stato avvistato dalle sentinelle antincendio del gruppo comunale di protezione civile di Cava dei Tirreni, coordinato da Francesco Loffrido, un principio d'incendio in località Diecimare. Dopo aver dato l'allarme alla Sopi di Salerno e alla Sala Operativa Comunale, sono partite due squadre antincendio, dirette dal coordinatore facente funzione Felice Sorrentino. Una ha operato direttamente sul fronte dell'incendio, in sinergia con la squadra antincendio della provincia di Salerno. L'altra, invece, ha provveduto al montaggio della vasca da 19.000 litri in località Breccelle, supportando le attività dell'elicottero regionale, sopraggiunto per estinguere l'incendio nelle zone più impervie. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle 20.00. Stamane, però, alle prime luci dell'alba, favorito anche dal vento, l'incendio ha ripreso vigore. Sul posto sono tornati nuovamente in azione volontari della protezione civile e la squadra antincendio della provincia di Salerno. In considerazione delle alte temperature di questi giorni, resta alta l'allerta per scongiurare altri focolai sui monti cittadini.